There's no place that I'd rather be 5, 4, 3, 2, 1 Ehi a tutti ragazzi siamo qui tornati con un nuovo video di una nuovissima parodia parodiosa di Il nuovo Samsung Galaxy S7 mi pare Oggi ragazzi siamo qui tornati con questa nuovissima parodia parodiosa E io vi chiedo 25.000 like per una nuova parodia parodiosa Detto questo niente ragazzi io direi di iniziare immediatamente E che è? Ma non è il mio Ragazzi Ragazza che sono da sola quindi È giunto il momento È calato È calato Di farvi vedere Frate che volevo vedere? Cioè siamo su YouTube? Eh? Eh cosa? Cioè è che? Eh? Eh dico Eh? Eh ripeto Ripeto Eh? Roberta Samsung Originale Uè figa ma Mi sta sfidata Sì Cioè guardate Niente contro Samsung Assolutamente niente Anche la garanzia Pazzesco Anche la garanzia A me pare più un numero di serie Che Qui sta qui E lì Non so per quale motivo Si è stampato qua Sono le 15.42 Fra un po' viene il mio amico Vedo che sappiamo Seguire il serie del discorso Come sempre Fresu Dai vi fresu Eh ho capito Daglie Fesu Fesufa E poi ha fatto vedere Qua sotto Però Ok Ti faccio vedere Facci vedere Daglie Mi stanno a tenere Sappi che mi stanno a tenere Ti faccio vedere Che questo è tutto L'originale Allora frate Sta parte È tutta originale Qua Tutto il contorno È originale Questo è Tarocco Per Bangla Non c'è l'arto Da dalle Poi dice Che è di mio padre E io ti risponderò E lui Frate Se la mettiamo però Su sto piano A parte il fatto Che nessuno Ti ha chiesto Niente Però nella maggior parte Dei casi Alla fine Va sempre a finire Da tuo padre Quindi Non esistere A ridirlo A ridirlo De nuovo E non fare l'hater E non fare l'hater Mannaggia ragazzi Mi ha scappato Cristian 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 Bader Bader Ba Bader 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 Maturi Matrullo Visto matrullo Ok E Non dire niente Se la immagine Che sembra un compagno Della mia classe Guardate Ma sono uguali Oddio ragazzi Pensavo fosse lui Porco tu Ti pare normale Un telefono di queste madonna Vi pare normale Che questo telefono Di queste cristiane Di Madonne Di Angelo Pietro È falso Lo sapevo Lo sapevo E il banglata Deluso Io pensavo fosse tutto Farso Invece Questa parte è vera Andamogli a fa causa Andamogli a fare una bella denuncia Guarda la qualità video Guarda guarda Tagli Ti sto a guardare Guarda me Mi stai Mi stai Mi stai a guardare Scusa se lo dico Eh però Eh Scusa frate Ma Non ce l'ho capita Niente Un disccomplimento Meglio che non te lo dico Ok Va bene Cioè non è che me la pì Però Stanno a tenere Voi dico che mi stanno a tenere Pensa il tuo di telefono Ok L'ho rubato L'ho rubato Prima c'avevo un Nokia E adesso C'ho questo Che non so manco che marca è L'ho rubato L'ho rubato Lo so Ci penso tutte le notte A questa azione che ho fatto Però Dovevo Dovevo E poi tu dici Perché non è vero Di suo padre Madonna Io non sto parlando Guardami Mi vedi parlare No Vale Il mio padre Non mi fa manco toccare Manco un po' Manco toccare In una dita Manco 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 così Me lo fa toccare Dito L'S6 suo L'S6 suo Hai capito il padre Grande Se vede che ha capito Che sono tocchi E il telefono Si è rotto Cioè È incredibile Stai veramente Sta cosa Non la capisco È pazzesca È più grossa Il telefono mio Che la mia mano È più grossa La telefono mia Che ha l'umano Ma già capito Non so se è servito Non so se è servito O non si è servisto Pazzesco Butter È per te Si pare normale No no Frada Non mi pare Non mi pare È proprio normale Guarda Veramente Credi Non mi pare normale Più di che Più di che Ma è finito così Cioè ragazzi Davanti in questo momento La schermata del suo video È terminata È finito con Più di mai Vabbè A questo punto Poi io finisco Dicendovi Butter Un idolo Un idolo Vabbè ragazzi Io non so cosa dirvi Questa parodia È terminata Così da nulla Se vi è piaciuto questo video Lasciate un bel like Mi raccomando ragazzi Se invece non vi è piaciuto Butter Quindi ragazzi Mi raccomando Stolcatevi su tutti i conti Sto i social network Che te lo dico In questa descrizione Se siete iscritti 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 E non siete più belli E ragazzi Ci vediamo in questo video Ciao belli Ciao 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 Un po' di futuro Devo smettere Dai botto a sto povero Microfono Bacio Ciao Butter Butter